Per angoli da scoprire in Veneto siamo venuti per telecittà qui all'isola di Caprera nell'arcipelago della Maddalena in Sardegna per vedere la casa museo di Garibaldi. Proprio qui infatti all'interno della stalla c'è qualcosa che parla Veneto un attrezzo che si chiama la locomobile costruito nel 1862. Questa è la stalla della residenza di Garibaldi all'isola di Caprera. Qui vi è contenuta la locomobile, quella che vediamo in questo momento è stata costruita a Treviso nel 1862. La locomobile è un veicolo semovente dotato di un generatore di vapore con serbatoio d'acqua che alimenta un motore a vapore per erogare potenza come macchina motrice. Tale tecnologia ebbe una relativa diffusione durante il XIX secolo e inizio del XX per essere poi soppiantata dall'adozione di motori a combustione interna e la locomobile fu usata soprattutto come trattore a vapore. L'ingresso della Casa Bianca è un modesto spazio quadrato senza finestre ma con porte da ogni lato. Qui vi si trovano oggetti della vita del generale come ad esempio questa, la carrozzina, che ricorda le difficoltà del generale ad ambulare soprattutto negli ultimi anni della sua vita a causa dei dolori derivanti dall'artrite reumatoide. Ma ancora vi è la bandiera uruguayana e la cassa da campo. Ci riportano questi alle tante battaglie. All'interno della stanza anche uno scrittoio. Subito accanto alla camera di Manlio. Manlio Garibaldi, ultimo figlio di Giuseppe Garibaldi e Francesca Amorzino, nacque a Caprera il 23 aprile 1873. Molti oggetti esposti nella sua stanza ripercorrono l'infanzia del ragazzo, dai modellini meccanici di nave alla divisa giocattolo. Questa invece è la camera matrimoniale di Garibaldi. Dopo la prematura morte della prima moglie Anita nel 1848, Garibaldi intrecciò diverse relazioni, ma dal 1865 l'unica donna che ebbe al suo fianco e che sposò nel 1880 fu l'astigiana Francesca Amorzino. Per 15 anni circa, Giuseppe Garibaldi e Francesca Amorzino condivisero la stanza. Dalla loro relazione nacquero tre figli, ricordati nei ritratti alle pareti. Clelia, Manlio e Rosa che morì a soli 18 mesi. In questa stanza invece sono contenuti molti oggetti personali del generale Garibaldi. Ad esempio una forbice, una forchetta, oppure una spazzola, un pugnale. Qui invece troviamo la famosa camicia rossa con il caratteristico cappello. Queste invece sono le stampelle utilizzate da Garibaldi a causa della sua malattia. Questi i suoi occhiali e anche uno scritto vergato di pugno da Garibaldi nel maggio del 1866. Qui troviamo dei fucili, delle spade, dei capi e dei copricapi. Lo studio, che si ricongiunge all'atrio, fu la prima camera da letto di Garibaldi, ma modificò nel tempo la sua destinazione d'uso, poiché nonostante la presenza del camino, si rivelò essere troppo umida, per via della cisterna sottostante. Era questo il luogo dove l'eroe leggeva e scriveva seduto alla scrivania, che guardava verso il giardino interno e sull'elegante poltrone in pelle con leggio, donatali nel 1877 da Margherita di Savoia. Su questo letto morì Garibaldi. Questa era la sala da ricevimento, fatta costruire da Francesca Morsino intorno al 1880. Ospitò Garibaldi, sempre più infermo, durante gli ultimi mesi di vita. Questo invece è il cimitero che è contenuto all'interno della residenza. Vi si trovano le tombe dei figli e questa è la tomba di Garibaldi. Il piccolo cimitero di Caprera ospita sette tombe, nelle quali riposano Garibaldi e alcuni membri della sua famiglia. Al centro si distingue il grande masso di granito grezzo che protegge la bara con le spoglie di Garibaldi. Subito accanto, per finire la visita, si trova il museo delle imbarcazioni, quelle che vediamo in questo momento, che furono utilizzate proprio da Garibaldi.